Endgame significa fine del gioco, un titolo che non promette nulla di buono. Il libro in uscita proprio in queste ore di Omid Scobie, portavoce più o meno ufficioso della sempre più velenosa Meghan Markle, ha un sottotitolo che lascia pochi dubbi a chi affronterà le 400 pagine, dentro la famiglia reale tra rivalità, segreti e vendette. Scobie, giornalista scrittore con buoni contatti nello stretto entourage della Royal Family, ha raccolto confidenza e curiosità sui tanti vizi e le poche virtù, secondo l'autore, dei Windsor. E così ecco il ritratto a tinte fosche di Carlo e William e della presunta tensione a palazzo, l'erede al trono dipinto come una rivista pronto a dienne di ogni sul sovrano, descritto dall'autore come un padre fallito e un marito traditore, colpevole di aver distrutto la vita di Diana. Nelle affilate pagine Scobie pubblica anche la corrispondenza tra Meghan e Carlo, dopo l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, nella quale la duchessa accusava alcuni membri della famiglia reale di atteggiamenti razzisti. Membri che restano comunque ancora segreti. L'autore infatti non fa nomi, ma sul libro Scandolo è già polemica e sono in molti a credere che dietro a queste pagine avvelenate ci sia Meghan Markle, che aveva già ispirato e forse suggerito il precedente lavoro di Omin Scobie, Finding Freedom, il dietro le quinte della fuga in America dei Sussex.